L'amministrazione comunale di Favara ricorda alla cittadinanza che per la giornata di oggi e fino a domani pomeriggio alle ore 18 è severamente vietato conferire i rifiuti nei cassonetti. Il vice sindaco Angelo Messinese invita al rispetto degli orari di conferimento e ricorda che i trasgressori, qualora scoperti dalle autorità competenti, verranno puniti ai sensi delle leggi vigenti in materia.